La nostra amata Toscana è stata colpita da eventi calamitosi devastanti. Ogni contributo, grande o piccolo, fa la differenza e insieme possiamo dare speranza e assistenza alle famiglie colpite. Così il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, annuncia una raccolta fondi, promossa proprio dall'ente, per contribuire ai danni milionari subiti dalle popolazioni alluvionate. Contribuiamo a ricostruire la Toscana più forte di prima, afferma Giani nel suo post. Il bonifico dovrà essere intestato proprio alla regione Toscana, con causale emergenza alluvione. C'è ovviamente un codice IBAN e un codice SWIFT per chi volesse contribuire dall'estero. Intanto proseguono senza tregua gli interventi di somma urgenza, afferma Giani, per il ripristino di argini e torrenti. Con queste immagini siamo a Montemurlo, ad Albiano, per la precisione, dove la furia della tantissima acqua caduta in poco tempo ha creato una voragine. Proseguono incessantemente anche i recuperi delle tante tonnellate di rifiuti che devono essere smaltiti, oggetti, sì, ma che rappresentano vite, storie, ricordi, portati via dalla furia dell'acqua e del fango.